La situazione calcio italiano resta nebulosa sul fronte ripresa anche se si registrano dei timidi passi in avanti. Il Comitato Tecnico Scientifico ha autorizzato il nuovo protocollo sanitario presentato da FIGICI e Lega Serie A. La conferma dell'autorizzazione è arrivata dallo stesso ministro dello sport Spadaforo che ha detto che allenamenti collettivi possono riprendere. Sono state fatte valutazioni puntuali e la Fidercalcio è stata disponibile a rivedere la sua proposta. Ci sono stati chiarimenti anche sui tempi di quarantena in caso di positività. E in caso di un contagio cosa accadrà? A questo interrogativo Spadaforo ha risposto il positivo va in quarantena, gli altri possono continuare a lavorare ma controllati in isolamento nel proprio centro sportivo. È giusto che il calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza. Le nuove tappe della lunghissima telenovela Spadafora, tal proposito, ha dichiarato. Ho convocato per giovedì 28 maggio alle 15 una riunione con il presidente FIGICI Gravina, quello della Lega Paolo Del Pino e le altre componenti di Federazione e Lega. Vengono autorizzate così le sedute collettive e non si obblicherà più i giocatori a restare stabilmente blindati nel proprio centro sportivo. Nessuno potrà avere contatti esterni ma i calciatori potranno continuare ad allenarsi. E questa è la formula che domenica 17 maggio è stata scritta da Lega Calcio Serie A e condivisa dalla FIGICI. Vedremo se queste nuove norme verranno accettate definitivamente da tutti i club di... Grazie per la visione!